basta sia la quinta volta che registro sto video ma è impossibile che non mi venga impossibile che non mi venga ciao ragazzi benvenuti sono juventino periferico e in questo video ragazzi speriamo che vada bene speriamo che vada bene che non mi intoppo ragazzi perché bisogna che mi elimino sempre 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 3 4 5 volte il video a fare a registrazione a registrazione ragazzi che non sono mai a fare un video sciolto non so mai fare un video sciolto comunque ragazzi comunque allora siamo qui non perdiamoci in chiacchiere allora vi consiglio vi consiglio caldamente un anime un anime che ho trovato per caso e io dico per caso su prime video allora fermo restando che perdici perdici in qui in in chiacchiere come come avete visto che qua c'è scraps scraps che non l'ho mai visto mi perdono mi perdonerete va bene o ragazzi mi non guardate c'è anche il cosmo sul casualmente casualmente va bene un accavolato di film ragazzi però la serie che voglio che voglio consigliarvi per chi non l'ha mai visto per chi non l'ha mai visto andiamo a scriverlo allora si chiama prison prison attenzione non è non è non è non è prison break che se non l'avete mai visto non l'ha mai visto non non bisogna che andatelo già subito a vedere se no non so a cosa vi perdete comunque la serie anime che volevo farvi conoscere è prison school prison school eccolo qua prison school ragazzi una è abbastanza demenziale demenziale è abbastanza hot come come anime è abbastanza adulti però è muore ragazzi molto come si dice molto sciolto è molto dicono abbastanza scene piccanti ballano in maniera abbastanza sciolta e va bene avete capito abbastanza volgare ok però diciamo diciamo che le situazioni ragazzi diciamo diciamo le situazioni in questo questo anime sono fantastiche non so come hanno fatto a creare in 12 episodi di una sola prima stagione che lo lo sto che lo sto vedendo e lo sto purtroppo e lo sto purtroppo finendo perché ragazzi sono solo sono solo 12 episodi però ragazzi vale la pena vale la pena perché ragazzi prison school riprende le come si dice le situazioni in cui un po' raramente si vedono in prison break ecco io ho notato questa questa un po' somiglianza però diciamo in prison break non si tocca prison break è una cosa a sé attualmente si è proprio è una cosa una generale una generale ecco una generale genalata spaventosa è prison break però prison school ragazzi prendetelo in considerazione perché vale la pena comunque va bene ragazzi va bene prison school tralasciando ragazzi l'enorme l'enorme catalogo che c'è su prime video però ragazzi se volete consigliarmi come come serie tv da guardare o film da guardare però ragazzi non lo so ditemi ditemi se per caso perché io uso io uso solo tra i miei video come diciamo come piattaforma per adesso perché ho solo questa allora ragazzi adesso adesso vedrò cosa vediamo cosa guardarvi ancora però 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 ragazzi vale la pena niente ragazzi se questo video vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi al canale niente questa è una è una panoramica così volevo farvi vedere questa serie tv che con il mio grosso ramarico sto finendo di vedere 12 episodio comunque ragazzi niente io vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video un prossimo live un prossimo non lo so ragazzi ci sentiamo ciao a tutti